La prevendita non è partita con le marce alte, c'è ancora tempo però per avere l'aiuto da casa. Alla Sanitana serve ritrovarsi e farlo in casa sarebbe molto importante, forse fondamentale addirittura vista la delicatezza del momento. Meno di 5.000 biglietti staccati fino a ieri sera con la prelazione che non è stata certo caratterizzata da una corsa al tagliando. I tempi della caccia al biglietto, quelli in cui si sottoscriveva la fidelity car proprio per potersi assicurare una priorità, sono ormai lontani. Bisogna interrogarsi sui motivi di una ormai inarrestabile fuga dall'arecchio dove ad eccezione di alcuni match di cartello non si registrano più numeri da record. La passione è un po' sopita, il trend negativo della squadra ha contribuito ma non è l'unica spiegazione possibile e plausibile. Avere abbassato ulteriormente i prezzi è stato un segnale importante da parte della società a cui si chiede un altro sforzo. Prevedere tariffe under 18 sarebbe un bel segnale di sensibilità e disponibilità verso la tifoseria. A Milano il presidente di Revolino e la di Milan hanno lavorato intensamente per capire quali soluzioni adottare sia per dare una svolta alla stagione della sederitana sia per affrontare altre tematiche, strutture, progetti per centro sportivo, convenzioni a rechi ma anche rapporti con la gente e con la platea di fans da intercettare e coinvolgere, rapporti con le istituzioni del calcio e dello sport in generale. Una full immersion che potrebbe e dovrebbe essere coronata dal blitz del patron. Gli devono in mente di andare a far visita alla squadra e al tecnico Paolo Sosa per suonare la carica in vista della partita di domenica. Battere il Monza dell'ex palladino del patron Berlusconi sarebbe un colpo fondamentale in chiave salvezza per la sederitana che deve recuperare entusiasmo, fiducia, energie psicofisiche per uscire dal momento negativo. Con Paolo Sosa qualche segnale di cambiamento c'è già stato ma i tifosi della proprietà vogliono i risultati ed è quello l'obiettivo a cui tende il trainer portoghese che sta vivendo la sua avventura in grata come una sorta di missione. Sosa sta spingendo tanto sull'acceleratore per far salire di livello il rendimento della squadra anche e soprattutto nel lavoro quotidiano. Serve vincere col Monza e sarebbe per questo fondamentale ritrovare il calore e la spinta della tifoseria. Sosa sta spingendo tanto sull'acceleratore per la sua avventura in grata in grata in grata in grata.